La notizia più importante, Vincenzo, è che il 2017 sta per finire perché è stata ovviamente, soprattutto la seconda parte, un anno sfortunatissimo, però per non farsi mancare niente anche in questa settimana ci sono state notizie non certo positive. Diciamo che la seconda parte, cestisticamente parlando del 2017, è stato un anno più che sfortunato, un anno duro, però noi siamo duri, andiamo avanti, lavoriamo e prima o poi ne verremo fuori. Anche questa settimana è stata una settimana dal punto di vista fisico complicato perché Meghi non sarà a disposizione per tutta la settimana per via di un problema di asma bronchiale, è molto forte, Ivano si è inserito in gruppo soltanto nella giornata di venerdì, però il gruppo lavora bene, è concentrato e sa che mancano ancora tante partite e una volta che riusciremo a lavorare con continuità verremo fuori anche dai momenti più duri. Anno nuovo, il 2 di gennaio c'è la trasferta di Bologna contro la Virtus, una delle più attrezzate, l'abbiamo visto ultimamente, dell'intero campionato. Hai detto l'obiettivo base è quello di rimanere più attaccato possibile ai Felsinei. Sì, è ovvio che l'obiettivo nostro è di crescere e per crescere significa rimanere attaccati il più lungo possibile durante le partite, soprattutto quando sono partite contro squadre di alta fascia. Quello sarebbe già una crescita importante per la squadra. Per far sì che avvenga questa crescita deve passare soprattutto dall'amalgama difensivo, i ragazzi ne sono convinti, lavorando in palestra sicuramente cresceremo anche in questo fondamentale che ci permetterà di rimanere legati alle partite più difficili e poi magari al momento opportuno cercare di effettuare anche il sorpasso. I due fratelli Gentile, Aradori, Slotter, Ume, insomma chi è che si ferma per cercare di limitare la formazione Virtusina? Deve essere fatto un lavoro di squadra, soprattutto difensivo, perché è una squadra che ha esperienza, nuclei italiani importantissimi e giocatori anche di talento, come hanno dimostrato anche nelle ultime settimane. Quindi è importante lavorare bene di squadra senza concentrarsi su un singolo giocatore, perché poi dopo, fermando Gentile, comunque può venire fuori uno degli americani che ha talento e esperienza, per cui lavoro di squadra e serenità in attacco con l'obiettivo appunto quello di cercare di rimanere legati alla partita il più a lungo possibile. Buon anno. Buon anno a tutti voi, grazie. Buon anno, buon anno, buon anno, buon anno.